L'avvocato Mariela Martingi è protagonista di questa importante rappresentazione teatrale perché è stata la regista, è stata quella che ha coordinato, quella che ha voluto, quella che ha creduto in questo progetto e l'ha portata avanti fino alla fine, fino a farcelo vedere a noi. Quali sono state le emozioni, i momenti più particolari mentre anche provavate? Sì, le emozioni sono continue, un testo così non ti lascia indifferente, anche le prove sono sempre tutte molto particolari e poi questo momento che adesso tra qualche minuto ci porterà sul palco ci crea tanta ansia, non soltanto perché è tipico dell'attore essere ansioso prima di arrivare al momento clou, ma perché questo è un testo che veramente ci prende da dentro, nelle vene, è un testo che ci appassiona. Quindi crediamo che una cosa così vada fatta bene tante volte perché è un messaggio di legalità e contro la mafia che nessuno deve dimenticare. Perché donne di mafia, donne contro la mafia è importante, perché da donne di mafia a contro la mafia. Sì, è vero e questo passaggio fondamentale che forse ha segnato anche la storia della mafia in questa Sicilia, le donne di mafia che sono diventate tutte donne contro la mafia certamente hanno lasciato un segnale, un passo, hanno aperto una porta che oggi ci fa dire che probabilmente c'era una volta la mafia e ora non c'è più. Ricordo quando diceva il grande magistrato che la mafia ha ucciso, Giovanni Falcone, la mafia è come tutte le cose della vita, ci sarà un momento che c'è e quello che poi non ci sarà più la ricorderemo solo. Quindi noi ci aspettiamo che questo suo pensiero possa realizzarsi presto. La speranza è che non ci sia più veramente e che tutti noi facciamo qualcosa ogni giorno perché questa mafia non ci sia più, né questa né altre mafie. Quindi è una speranza per tutti. Grazie e crepi il lupo, me lo dico da sola. Viva il lupo, perché il lupo porta i suoi piccoli e quindi li salva. Viva il lupo e basta. Va bene così. E tutti i lupacchiotti. La dottoressa Francesca Incandela è la protagonista di questa serata perché lei è quella che ha scritto questa bellissima storia che poi è il racconto di donne, di mafia, che si ribellano alla mafia. Quindi è una parte positiva in un paese, in una realtà anche quella siciliana, dove la mafia è stata prepotente. Dico è stata perché noi ce la spieghiamo che con le lotte che sono state fatte, con la cultura che è cambiata, con Matteo Messina Denaro che è stato preso e adesso è pure morto, insomma che magari qualche cosa possa essere cambiato. Certo sappiamo che cammina in maniera sotterranea da sempre, però noi dobbiamo puntare al positivo. Com'è stata positiva questa sua iniziativa? Bellissima. Grazie Patrizia e sono felice di essere qua e soprattutto di vedere molte persone che stanno partecipando a questa iniziativa. Anni fa mi sono posta una domanda. La mafia è donna? Cioè dalla donna silenziosa e omertosa ho scoperto che in realtà ci sono delle donne che hanno agito da protagoniste all'interno della famiglia mafiosa e molte altre che si sono ribellate. Alcune sono morte, altre invece hanno continuato la loro lotta. E quindi questa sera vogliamo celebrare le donne che lottano contro la mafia a costo di perdere la vita. Questa sera anche il dottore Massimo Russo che non poteva mancare, lui che da sempre è stato al contrasto della criminalità mafiosa di questo territorio. E oggi è un momento importante perché questa rappresentazione vuole parlare delle donne che si liberano dalla mafia. Quindi le donne coraggiosi ci sono? Ci sono come devono esserci anche gli uomini coraggiosi e credo che questo ventennio abbia dimostrato come ci sono le donne di mafia, ci sono gli uomini di mafia ma c'è chi li combatte. Questa pista teatrale porta sul teatro, sul palcoscenico un pezzo di realtà, ahimè, per noi siciliani è particolarmente doloroso. Ed è significativo che si continui a parlare anche delle donne di mafia che, come è noto, fino al 2000 venivano considerate, secondo uno stereotipo, le donne che obbedivano silenti vicino all'uomo di mafia. Poi c'è stata purtroppo una sorta di emancipazione, il negativo, ma dovuto anche al fatto che lo Stato ha sconquassato le famiglie mafiose e queste donne, alcune si sono ritrovate a gestire il patrimonio di famiglia che non è soltanto quello materiale ma è quello delle relazioni, quello dei rapporti e molte donne sono state proiettate in un contesto mafioso. Vediamo anche la sorella, per esempio. Stavo dicendo esattamente questo, gli echi vicini del territorio e le vicende note castelvetranesi dimostrano come in realtà quello era appunto uno stereotipo e le donne sono diventate protagonista. Però è anche vero che ci sono state le donne protagoniste della rottura dell'assetto mafioso mentre prima la donna, come dire, una sorta di vestale del potere mafioso aveva il compito di tramandare l'etica mafiosa abbiamo registrato anche delle rotture all'interno di queste famiglie di sangue con donne che si sono aperte alla collaborazione con la giustizia. Rita Atia certamente è il simbolo di questo cambiamento e credo che altre ne verranno. Si vuole riaprire un po' il processo o comunque rivalutare la questione anche su questo caso perché dei dubbi sono rimasti a tutti. Io credo che riflettere su questi temi sia sempre importante. Lo facciamo serenamente in un teatro ma ciascuno poi deve sempre considerare come questa realtà purtroppo è ancora viva, non certo forte quanto prima ed è bello anche il titolo Donne di mafia e Donne contro la mafia. È un universo variegato. Mi auguro che prevalgano le donne contro la mafia.